Buonasera dal TG1, il Premier Conte da Norcia dove ha visitato un istituto superiore che era stato distrutto dal sisma torna a ribadire l'impegno del governo sulla scuola Per voi, dice agli studenti, faremo il massimo sforzo Sul Recovery Fund rilancia è una sfida per un paese migliore Se faliremo avete il diritto di mandarci a casa Il servizio d'apertura è del inviato Roberto Chinzari Per il Premier una sfida doppia l'inizio dell'anno scolastico in presenza e la finalizzazione del Recovery Fund è cuore dell'azione del governo Un piano dedicato a voi, dice Conte, incontrando gli studenti dell'istituto De Gasperi Battaglia e per questo, se falliremo, avrete il diritto di mandarci a casa A Norcia, per condividere i giorni della ripartenza, il Presidente del Consiglio visita una scuola che ha vissuto due emergenze quella del sisma e quella del Covid A gennaio aveva accolto a Palazzo Chigi gli insegnanti, mancavano le aule Abbiamo lavorato tanto, spiega, per assicurare che questo anno scolastico possa svolgersi in presenza Le difficoltà ci sono, continueremo a lavorare per superarle Regole e precauzioni, impegni finanziari, uno sforzo collettivo Condividere parole del Capo dello Stato La scuola non sia luogo di polemiche, serve il sostegno di tutti Sono fiducioso che anche a questa sfida riusciremo a rispondere in modo assolutamente positivo Riusciremo a vincere tutti insieme Poi una passeggiata per il corso La promessa di rimettere a posto la cattedrale grazie al contributo dell'ENI Elezioni a rimpasto? Seca la risposta, siamo concentrati sul lavoro E di Recovery Plan ha parlato in Parlamento il Ministro dell'Economia Gualtieri Un'occasione irripetibile Grazie a tutti